L'Italia è un paese che fa pochi figli e perdiamo troppi ragazzi che vivono in una situazione multifattoriale di povertà e di esclusione, bisogna recuperarli nei territori di massima crisi ma anche nelle tante periferie che abitano il nostro paese e quindi c'è un lavoro enorme da fare per riconquistare alla conoscenza centinaia di migliaia di ragazzi. I nostri livelli di conoscenza anche elementare che servono alla cittadinanza sono molto in pericolo in questo momento e noi dobbiamo recuperarli e penso che riflettere su questo sia importante per l'Italia che non può andare avanti con disuguaglianze di conoscenza così marcate. Se nasci in un quartiere dove ci sono meno occasioni culturali di ogni tipo, da una famiglia i cui genitori sono andati poco a scuola, spesso da una mamma sola che deve sbarcare il lunario come può. In una casa dove forse ci sono soli libri scolastici non hai le stesse occasioni di altri, quindi l'insieme della comunità nazionale deve fare in modo di compensare questa situazione di partenza. Grazie. 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 Grazie.